L'ho nominata qualche giorno fa quando ho registrato il video della Trooper, la birra degli Iron Maiden e stiamo parlando della Road Crew che è la birra brandizzata Motorez Allora vediamo la scheda tecnica di questa birra, il birrificio che abbrassa questa birra è Cameron, siamo nel Regno Unito Il nome di questa birra è appunto Road Crew, lo stile di questa birra è una American Pale Ale, una APA 5 gradi, il volume alcolico, il prezzo di questa bottiglia online vedo che è a 3,60€ la bottiglia da 33cl ma io l'ho acquistata in un cash and carry e stupidamente non mi sono segnato il prezzo ma ricordo forse qualcosa in meno di 3,60€, poco più di 3€ se non erro Il bicchiere suggerito, bicchiere aperto, pinta per questa APA e non si tratta di un primo assaggio Allora come dicevo l'ho nominata poco fa questa birra, anche in questo caso come nella birra degli Iron Maiden si tratta di un birrificio inglese che collabora con il brand appunto Motorez in questo caso per realizzare questa birra quindi l'impianto non è di produzione dei Motorez, non era comunque diciamo nel momento che dopo la scomparsa di Lemmy fondatore, frontman e bassista sono praticamente fermi come attività quindi appunto viene sfruttato il brand la cosa che mi ha un po' sorpreso effettivamente devo dire che un birrificio inglese di un gruppo inglese anche abbastanza legato alle tradizioni perlomeno europee tra l'altro Lemmy era un grande appassionato di storia, in particolare storia recente europea mi ha sorpreso il fatto che sia stata scelta come birra, come stile una APA quindi uno stile americano che sia vero per certi versi è molto simile agli stili britannici ovviamente ma insomma mi aspettavo un maggiore nazionalismo da parte di Lemmy anche se, riflettendoci dopo, il nome di questa bottiglia è Road Crew che si rifà ovviamente alla canzone We Are Road Crew dei Motorez e leggevo la canzone che è stata scritta da Lemmy quando erano in tour con Jimi Hendrix durante le prime fasi del successo dei Motorez quindi appunto prima nei concerti di niente poco di meno che Jimi Hendrix infatti questa canzone è stata scritta negli Stati Uniti tra l'altro un aneddoto vuole che, non so se il ritornello o tutto il testo comunque Lemmy lo abbia scritto all'interno di un bagno in uno dei van, dei camper che seguivano il tour perché diceva che era l'unico posto molto tranquillo in cui riuscisse a scrivere in silenzio quindi si rifà probabilmente anche o forse a quello o semplicemente al fatto che erano negli Stati Uniti quando questa canzone è stata scritta quindi questo nome è stato dato alla birra ed è stato scelto quindi uno stile americano è una cosa che mi è venuta in mente visto che fu scritta in quel periodo durante un tour in America oppure semplicemente può essere che sia uno stile che piaceva molto a uno o a tutti i componenti della band passando quindi all'estetica la bottiglia è nera con il collo corto e sul tappo c'è il logo punto dei Motore che è questo cranio che non si capisce bene se è umano o animale con due lunghe zanne con un dente scheggiato proprio come quello di Lemmy insomma il logo dei Motored che c'è su tutte le magliette che ogni buon metallaro deve avere nell'armadio la scritta Motored sulla piccola etichetta superiore è una unica etichetta che ricopre praticamente tutta la parte inferiore della bottiglia con logo Motored con lo stesso font un po' gotico diciamo così la scritta Road Crew con doppi puntini sulla O come sul logo Motored American Pale Ale Brood by Camerons appunto sul reto ci sono alcune informazioni interessanti su un lato ovviamente tutte le informazioni tecniche il nome, il volume, gli ingredienti eccetera eccetera mentre sull'altro lato dell'etichetta c'è appunto una citazione un pezzettino di questa canzone da cui appunto prende il nome e c'è anche una bella scritta Motored for Life e appunto gli ingredienti viene riportato solo acqua, malto d'orzo, wheat, quindi c'è tel, frumento anche e luppoli ok passiamo quindi all'apertura di questa birra il bicchiere in questione è una pinta dire il vero questa è una pinta da 0-3 quindi probabilmente non ci sarà tutta è perché l'unica pinta da 0-4 che ho in casa è quella degli Iron Maiden quindi non volevo creare tensioni tra le due band o tra i fan delle due band e infatti non riesco a farla stare tutta, avanza proprio un pochino allora innanzitutto una schiuma abbastanza fine non eccessiva, non abbondante è poco persistente perché si sta già infatti smontando completamente di un colore bianco direi mentre la birra è molto molto trasparente, molto limpida si vede leggermente qualche bollicina quindi una leggera carbonazione già visibile appunto a occhio e di un colore, è un paglierino piuttosto spento passiamo quindi al naso allora al naso l'intensità è abbastanza bassa direi piuttosto bassa anzi l'unica cosa che però emerge abbastanza chiaramente sono delle note di malto va abbastanza chiare devo dire, non c'è altro c'è appunto questo malto molto chiaro ma oltre a questo malto non ci sono particolari altri aromi che spiccano al naso e appunto l'intensità resta abbastanza bassa allora anche in bocca l'intensità è davvero abbastanza contenuta miglio che al naso ovviamente e farei davvero fatica a distinguere questa birra da una pale ale britannica nel senso che sono molto contenuti sia gli aromi sia i sapori in bocca ed sarà appunto difficile distinguere non avrei detto infatti che si trattasse di una American pale ale detto ciò in bocca c'è una buona apertura maltata non è eccessiva, è comunque molto molto watery questa birra e il malto si si sente ma l'intensità anche in questo caso è abbastanza bassa l'apertura maltata poi come al solito si arriva un pochino di amaro ma anche in questo caso è abbastanza contenuto e c'è una discreta frizzantezza che sta molto bene ma appunto ci accorgiamo prima del frizzante quasi che del gusto nel senso che appunto tutte le note gustative sono molto molto contenute possiamo dire sì che è una birra delicata nel sapore ma avrei preferito sentire di più sicuramente il malto quel pochino di malto che c'era al naso è molto leggero al naso spera o fosse un po' più intenso in bocca invece anche in bocca c'è davvero poco mi spiace perché ho un legame affettivo particolare con i motor visto che sono stati più o meno il gruppo che mi ha introdotto al magico mondo della musica metal, heavy metal e tutto ciò che appunto può agire intorno a quei generi musicali però appunto la birra non è all'altezza forse di certe performance musicali di questa band mi viene da pensare cosa che avevo già detto anche nella puntata sulla birra degli Iron Maiden che probabilmente non so quanto interesse ci sia da parte dei produttori a creare un prodotto di qualità e magari semplicemente a sfruttare solo appunto il brand commerciale di una band così famosa e che comunque nel mondo del rock'n'roll è un po' legata all'utilizzo di birra e altre sostanze alcoliche ma effettivamente, cioè Lemmy lo associo subito a nel migliore dei casi a Jack Daniels quindi non, ma è proprio un prodotto è un whisky diciamo premium o comunque di alta qualità insomma ha prodotti molto commerciali e anche nel caso della birra un po' più o meno lo stile è vicino a certe birre commerciali di stampo inglese però appunto l'avevo nominata mi piaceva poi registrarci anche un video questa è la Road Crew dei Motorel Skull